Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ciaspole TSL Sainbio Hyperflex versione Elite. Nomi lunghissimi, ma per delle ciaspole che mi sono piaciute davvero tanto e con quali si possono fare tantissime ore di escursione soprattutto. Iniziamo col parlare dei materiali. La ciaspola è fatta di una plastica composita che, come dice il nome, gli dà la caratteristica di essere super flessibile. Guardate un po', super super flessibile. La ciaspola per quanto riguarda la parte esterna, come dicevo, è fatta in plastica e poi tutte le parti, le venature che corrono sui lati della ciaspola sono fatte in carbonio per darle comunque una buona rigidità, ma vedremo che la rigidità non è il suo forte. È una ciaspola in cui troviamo diverse taglie, S, M, L, partendo da 30 kg minimo arrivando nella taglia maggiore ai 140 kg massimo, quindi per qualsiasi peso, possiamo dire. Soprattutto troviamo delle ciaspole che vanno da all'incirca 1,8 kg la coppia nella taglia minore fino ad arrivare ai 2 kg nella taglia maggiore, quella da 140 kg. Iniziamo col parlare della parte sottostante, della ramponatura. Come potete vedere troviamo 8 ramponi suddivisi in due file da 4 in acciaio inossidabile con doppia seghettatura, doppio artiglio, ecco, che hanno un grip veramente spettacolare. Ghiaccio, neve farinosa, il grip di queste ciaspole è veramente buono e poi il rampone anteriore. Questo rampone anteriore l'abbiamo già visto sulle TSL Elevation modello 305 e già lì vi avevo detto che mi era piaciuto tantissimo. Idem su queste, il rampone anteriore, questo qua come ha fatto la TSL è spettacolare, non ho mai trovato un rampone così buono. Andando a girare la ciaspola vi parlo subito del sistema con il quale possiamo andare a tirare avanti e indietro il tallone in modo tale da poter far entrare qualsiasi numero di piede. Lo abbiamo provato, entra dal 36 al 47 e anche 48, nel senso c'è ancora spazio. E troviamo un sistema veramente molto semplice, composto da due bottoni sul davanti che sono da premere per andare a sbloccare il nostro sistema e poi basta a tirare semplicemente avanti e indietro il tallone. Semplicissimo, intuitivo, fatto bene, mi piace. Queste cose qua, proprio così semplici, mi piacciono sempre tanto. Analizzando poi come è fatto il nostro collare, dove andremo a mettere la caviglia, troviamo innanzitutto una doppia chiusura, una sulla destra e una sinistra. Quello sulla sinistra è un pochino più duro ma perché è pensato per regolarlo una volta e basta, cioè una volta che noi la compriamo regoliamo la prima volta e è finita lì. Quello invece è pensato per andare a mettere e togliere il ciaspola tutte le volte e quello sulla destra. Qui troviamo infatti un cricchetto classico come quello che troviamo su tantissimi altri tipi di ciaspole, dove andiamo ad aprire e chiudere il nostro cricchetto andando a togliere il laccetto molto semplicemente e molto velocemente. Tutto il sistema è inoltre imbottito, fatto bene, in modo tale che quando andiamo a chiudere anche molto forte il laccetto sulla nostra caviglia, questo non dia fastidio, non faccia male e oltretutto si può nascondere dentro il pezzetto di linguetta che avanza fuori una volta che lo andiamo a chiudere. Passando alla parte anteriore invece, come abbiamo visto sull'elevation, troviamo il sistema di bande laterali che si può andare ad aprire e chiudere in base a quanto abbiamo grossa la punta dello scarpone, per un serraggio migliore. E poi c'è questa specie di linguetta, cricchetto, adesso non so come chiamarlo per bene, che ci permette di andare a serrare la prima volta le fettucce laterali attorno al nostro piede e poi non dobbiamo andare ogni volta ad aprirlo e andare a richiudere andando a ricercare la stessa pressione. No, a noi basterà aprire questo semplice gancetto in modo tale da poter far uscire i piedi e richiuderlo nella stessa identica posizione della volta precedente. Cioè in pratica noi una volta che abbiamo trovato la posizione perfetta per il nostro scarpone non dobbiamo più toccarla, basterà andare ad aprire e chiudere il nostro gancetto e sarà fatto. Passando dalla punta al tacco parliamo dell'alzatacco. L'alzatacco è molto semplice, lo si può utilizzare aprendolo anche con il bastoncino e anche richiudendolo. Mi è piaciuto molto perché è pensato all'inverso. Vi spiego, di solito l'alzatacco lo abbiamo sulla ciaspora, non sotto il nostro tallone. Avendolo sulla ciaspora molte volte può dar fastidio alla lunga, può non essere così comodo. Avendolo invece sotto il tallone, fidatevi, è veramente molto molto comodo, anche perché la superficie d'appoggio, di solito, quelli installati qua sotto, la superficie d'appoggio è piccolina, quindi rischiamo di sentirla quasi sotto il piede. Qui invece è bella grossa, fatta in gomma, quindi anche nel momento in cui non andiamo ad appoggiare. Questa ha un ottimo grip, questa ha veramente, oltre a svolgere bene proprio la funzione di alzatacco, di alzare il nostro tallone per farci consumare meno energia. Questa veramente, grazie anche all'ammortizzatore messo qua sotto da TSL, svolge un lavoro veramente egregio, veramente fatte molto molto bene queste ciaspole. Inoltre aggiungo che anche su neve fresca, neve ghiacciatina, non ho avuto problemi di formazione di zoccoli o roba simile. Si pulisce molto bene la ciaspora, quindi non andremo ad avere il nostro zoccolo da nessuna parte. Parliamo della forma di queste ciaspole, come per tanti altri modelli potete vedere che c'è una concatura a metà, questo serve per poter permetterci di camminare meglio, di avere una camminata più fluida e questa cosa della camminata più fluida ce la permette tantissimo il sistema Hyperflex, perché nel momento in cui noi abbiamo una ciaspola rigida come le solite, noi quando andiamo ad appoggiare il tallone abbiamo una ciaspola rigida, quindi la camminata non è molto naturale, molto costretta. alla lunga i muscoli ne risentono quando facciamo tante ore di camminata, sentiamo i muscoli che diventano veramente stanchi. Questa no perché nel momento in cui noi andiamo ad appoggiare il tallone e la ciaspola andrà completamente a flettersi e a fare la rullata come se fosse il nostro piede. Quindi noi avremo l'appoggio di tallone, tutta la ciaspola che si flette fino ad arrivare alla spinta con l'avampiede, con la punta, con il rampone. E questo fidatevi ci garantisce un disparmio di energia o comunque a livello muscolare un dispendio di energia decisamente minore rispetto alle ciaspole rigide. Questo fate attenzione perché non è per forza un pro ma può essere anche un contro dal momento in cui magari in dei punti un po' sconnessi, un po' difficili, abbiamo bisogno di quella rigidità data dalle ciaspoli rigide e qua non avenderlo, quei punti diventano un pochino più complicato passarli, ecco. Quindi non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire. Veniamo alle conclusioni. Per chi è pensato questo tipo di ciaspola? Allora, parliamo di una ciaspola comunque non economica, la troviamo 200-220 euro al paio. Non è proprio economico ed è pensato per delle persone che vanno a camminare molto spesso, stanno fuori tante 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 ore, cioè parliamo anche di 12 ore al giorno. E sono ciaspole, io le consiglierei per intermedi esperti, non proprio per principianti perché questa struttura Hyperflex può non essere così semplice da portare. Le ho testate anche sui traversi, si comportano bene perché comunque sotto la romponatura è fatta veramente bene, però non pensateci di fare dei traversi troppo complicati, anche perché non abbiamo nessun binario laterale che va a dargli quel grip sui traversi. Quindi sì, ma non traversi troppo complicati, ecco, roba abbastanza semplice. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esaurente ed esaustivo anche per questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao!